C'è stata ieri una riunione fra le regioni e il governo. Al di là delle chiacchiere che di solito si fanno in queste riunioni, c'è una cosa concreta che mi pare sia emersa, cioè l'orientamento di aprire le scuole il 9 gennaio. Una delle cose più sconvolgenti a cui abbiamo assistito in questi giorni, queste settimane, sono le posizioni del Ministro della pubblica istruzione, spalleggiata dal Presidente del Consiglio. Ora io voglio mantenermi con toni molto misurati, ma si poteva immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre, poi chiuderle dopo due settimane per le feste di Natale, poi riaprirle a gennaio. Veramente non ci sono parole. Si sta ragionando in queste ore sulle zone, controzone, sottozone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata. Abbiamo avuto modo di verificare con quanta difficoltà anche dal Ministero della Salute comunicano i dati oggettivi che motivano queste classificazioni in zona. Per una parte vi sono ragioni obiettive per le classificazioni, per un'altra parte vi sono ragioni che, per quello che mi riguarda, per quello che capisco io, rinviano semplicemente a motivi di politica politicante. La sanità non c'entra niente. Sapete che abbiamo avuto la decisione delle zone rosse. Io continuo a ripetere che siamo di fronte a qualcosa che non merita neanche i commenti. Credo di aver verificato, come tutti quanti i cittadini campani, che al di là dei negozi di abbigliamento per adulti e abbigliamenti di altri generi, vendita di scarpe, pelletterie e quant'altro, è tutto aperto. Il livello dei controlli, tranne forse la prima giornata, i primi due giorni, è praticamente uguale a zero. Parlare in queste condizioni di zona rossa è qualcosa che veramente fa innervosire, volevo dire fa indignare. Io ormai mi sono convinto che, e lo dico tranquillamente ai nostri concittadini, cari concittadini, noi siamo nelle mani del Padre Eterno e per quello che ci riguarda della regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, di fumo, di ipocrisia e di finzioni. Questa non è una zona rossa. Non so che cosa sia. Evitiamo perlomeno di prenderci in giro.